miei cari amici bentornati nuovamente nella mia cucina gli antipasti non possono proprio mancare nel menù delle feste una cosa è certa, le idee non bastano mai oggi voglio proporvi uno spunto per portare in tavola salume e formaggi in modo originale e sfizioso cosa aspettate? continuate a seguire questo video e allacciate il grembiule noi come sempre ci vediamo prestissimo, ciao a tutti per questa prima idea utilizzerò due tipi di formaggio a pasta dura di colori differenti dei pomodorini di due colori, delle fette di salsiccia secca, crecres e foglie di prezzemolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per questa seconda idea utilizzerò dei formaggi semestagionati, del rosmarino fresco, delle foglie di alloro, delle olive e peperone rosso grazie a tutti 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 grazie a tutti